Dal 1 gennaio 2002 l'euro diventerà la nostra moneta. I prezzi continueranno ad essere indicati in lire e in euro. Per fare un euro ci vogliono 1936,27 lire. Portate in banca i soldi che avete a caso e in tasca entro il 28 febbraio. Ve le cambieranno in euro senza spese. Dopo le lire potranno essere cambiate in euro solo nelle filiali della Banca d'Italia. Oggi fare la spesa è un'abitudine e controllare quanto spendi e contare il resto sono una buona abitudine. Presto fare la spesa in euro diventerà un'abitudine e controllare quanto spendi e contare il resto continueranno ad essere una buona abitudine. Arriva l'euro, cambiano i soldi, non cambia la vita. Grazie. Grazie.